I carabinieri hanno ricostruito il puzzle pezzo per pezzo partendo da un decesso apparentemente per cause naturali e da un tentato suicidio in prima istanza dovuto alla sola depressione. La realtà però nascondeva ben altro, un vero e proprio dramma familiare della disperazione del degrado sociale consumatosi proprio nel giorno di Natale. Sandro Boiochi, 51 anni, dopo aver accudito per anni la madre gravemente malata con patologie neurodegenerative, l'ha uccisa iniettando le 15 fiale di eparina che non hanno lasciato scampo alla 74enne Lucia Zafenza originaria di Chieti Madanni, residente a Pescara. Uno degli altri tre figli dell'anziana l'ha trovata priva di vita nella tarda serata del 25 nell'appartamento all'inizio di via Cristofolo Colombo a pochi metri dal porto di Pescara, porto nel quale è stato trovato in stato di incoscienza proprio Sandro Boiochi che aveva scelto la banchina commerciale per farla finita con un cocktail di farmaci. Nella Panda c'erano anche una tannica di benzina e un biglietto di scuse ai parenti. Da qui è partita la corsa contro il tempo degli investigatori che hanno capito cosa era successo. La denuncia per scomparsa fatta dal fratello il 27 di dicembre, il funerale a cui mancava proprio Sandro celebrato quando nessuno sospettava dell'accaduto. Dall'autopsia sul corpo della donna effettuata prima della tumulazione è arrivata la conferma e l'incriminazione per omicidio volontario aggravato dal vincolo parentale e dall'avvelenamento. Sandro Boiochi ora è piantonato in ospedale a Pescara dove è ricoverato nel reparto di psichiatria e dove oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia in cui il GIP del tribunale di Pescara Antonella Di Carlo ha convalidato l'arresto disponendo il carcere. L'uomo che aveva già confessato al PM avrebbe ribadito la sua versione dei fatti. Sono state una serie di elementi che ci hanno portato a ricostruire in maniera inequivocabile il quadro indiziario. Siamo partiti da nostri elementi, dall'intuizione di un maresciallo che ha ricevuto una denuncia di scomparsa e in sede di redazione dell'atto ha appreso che nello stesso giorno c'era stato il decesso della mamma. Si è poi andato a scavare per ricostruire il quadro. Sono stati trovati quindi medicinali e sono state trovate le fiale e le sidinghe con cui è stata posta fine alla vita della mamma. In sede di interrogatorio poi la persona ha ammesso le proprie responsabilità dandoci indicazioni precise sia sulla modalità sia sul numero, trovando pieno riscontro tra quanto da noi trovato sul posto e quanto dichiarato.